Un confronto tecnico durato tutta la mattinata, quello fra i tecnici ARPAB, guidati dal neodirettore Iannicelli e i rappresentanti di Eni. Al centro il funzionamento del CanSolve, la nuova tecnologia di processo attraverso cui la compagnia del cane a sei zampe si propone di ridurre di almeno il 10% le emissioni di anidride solforosa del centro olio Valdagri. Un sistema introdotto per la prima volta in Italia, che prevede il lavaggio di SO2 dai fumi uscenti del termodistruttore e la successiva reimmissione verso le unità esistenti adibite alla conversione in zolfo liquido. Fra i presenti è anche il sindaco di Vigiano Amedeo Cicala e il presidente della commissione intercomunale per la valutazione di impatto sanitario Michele Montone. Assente invece l'assessore all'ambiente Berlinguer, impegnato in una conferenza di servizi sulla Fenice di Melfi. L'attivazione del CanSolve rientra nella seconda fase del processo di avviamento al regime della Quinta Linea, che come abbiamo anticipato nei giorni scorsi sarà preceduto da una mini fermata per lavori di manutenzione, che nel prossimo mese comporterà la chiusura dei pozzi per circa una settimana. La partenza al regime della Quinta Linea è prevista per il 15 febbraio. L'aumento della produzione comporterà ad ogni modo un aumento complessivo delle emissioni in atmosfera.